A Napoli, calamita incomparabile del turismo, un congresso internazionale che De Gasperi e Rubinacci sono venuti ad inaugurare. Salgono al maschio angioino il sindaco Lauro, l'onorevole Romani. È il settimo congresso mondiale del turismo. Troviamo De Nicola nella sala dei baroni. Poiché il turismo tende al superamento di tutte le barriere, dice De Gasperi, siamo lieti di considerarlo alleato nella campagna per la pace mondiale. Romani dà il benvenuto ai delegati di 46 nazioni e Lauro promette che Napoli saprà sempre meglio ritrovare il suo volto affabile per i visitatori.